Bella a tutti ragazzi, sono Andri e oggi sono qui per spiegarvi come installare i cursori del Mac originali tramite questa piccola installazione che direi è molto più veloce del metodo precedente. Innanzitutto vi darò il link per scaricare questo file su internet, voi lo scaricherete e farete eseguire come amministratore, fate avanti e avanti a tutto e dopo di che vi avrà installato i cursori sul computer. Vi metterai i cursori sul computer e voi per applicarli se siete su Windows 7 andate tasto destro personalizza, cambio puntatori mouse, andate in Mac OS X e fate applica. Ok, ora avrete i puntatori originali, oppure se siete su Windows 8 andate in pannello di controllo, mouse, puntatori, Mac OS X e fate comunque applica. Che siano tutti i vari cursori che ho io. Ok, fate applica e ok. Chiudete. E avrete installato i vostri cursori per PC. I vostri cursori Mac per PC. Ok ragazzi, questo tutorial è molto corto, è finito. E direi che da Andrea è tutto, ciao ciao a tutti, mettete un bel mi piace, ciao ciao ciao.